e azione non serve che parli un momento devo fare il ripresa della stand manata dai ragazzi ma fa freddo il cuore così sì sì ok dopo ti viene caldo con gli scappellotti avete capito tutto? ancora una volta ma più avete capito tutto? azione avete capito tutto? avete capito tutto? certamente ma dai non ho il tempo appena tu mi hai detto avete capito tutto fai un passo indietro perché se no mi entri con la maqueta in te ne fai certamente e azione e partiamo dai più importante fai a porta no? stai facendo a porta? dì la verità chi ti ha parato? l'altro regista per oscurarmi i filbatti che cazzo sei? 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 va bene va bene va bene andiamo parco grazie 馬